UI punta sempre con più forza sulla Puglia. Il network leader mondiale nei servizi professionali di consulenza, prima conosciuto come Ernst & Young, continua l'espansione della sua sede a Bari aperta nel 2019 in via Oberdan. Sette piani, che diventeranno nove dopo i lavori di ristrutturazione a dicembre, in cui vengono impiegati 750 dipendenti con unità media sotto i 30 anni. Oggi noi possiamo, anche attingendo al tessuto accademico di Bari e della regione, poter dire che veramente i nostri professionisti hanno un percorso di formazione sia a livello di progetti, ma anche a livello di pura formazione accademica veramente importante. Bari è anche per noi non solo un hub, non solo un centro di copertura nazionale e anche regionale, ma anche sta diventando una porta per esportare le nostre competenze a livello europeo. Punto di forza le distinzioni delle competenze con talenti e professionisti qualificati che variano dall'ambito tecnologico al settore del business transformation, passando poi per insurance e tax and legal. Il focus su cui noi stiamo concentrando la nostra attenzione, i nostri investimenti sono le nuove tecnologie. Su Bari oggi stiamo anche focalizzando quello che sarà il futuro degli investimenti sull'intelligenza artificiale a livello EY, leveraggiando soprattutto quello che oggi ci può dare questo territorio e quello che i nostri colleghi potranno dare per il nostro futuro cammino su questo nuovo percorso.